Ciao a tutte e a tutte, benvenuti e bentornati nel mio canale. Allora, oggi il video svuota spesa INSS, in questo periodo di quarantena il mio compagno è andato a fare la spesa e vediamo che cosa ha combinato. Ma prima di farvi vedere che cosa ha preso vi chiedo di spolliciare, iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Sto ridendo perché in tutto ciò ho la bambina nel dondolino che mi sta guardando che sembro scema, il mio compagno sul divano che sta ridendo e pensa che io sono scema. No. Sì, va bene. Comunque, vediamo cosa ha preso. Ha preso ammorbidente, sei andato all'ins? All'ins. Ammorbidente co-10, soffio di rosa da 4 litri, ok perché mi serviva. Poi, ok, detersivo per i capi scuri, un litro e mezzo, sempre co-10. Una rosa per la mia rossa. E ok, va bene, il detersivo per la lavatrice a muschio bianco da 3 litri. Non è ammorbidente? Hai preso l'ammorbidente. Poi, ha preso una busta di duetto julienne da 250 grammi. Poi, salatina va sempre bene. Crostata all'aldicocca biologica. È bio, quindi non fa male. Penso che non ti sentano. Poi, mele fougie. Devi dire qualcosa sulle mele? Una mele al giorno toglie al medico di torno. Poi, tre baguette. Una mi pareva poco. Due, tre. Perché costo a me si dice, uno è troppo poco, due sono le corna, tre è il numero perfetto. E in freezer ci stanno. Dato che stai lì a fare niente, metti a posto un pane. Non posso, non entro in videocamera. No, va bene. La faccia che spacca lo schermo. Sì, immagino. Poi, due, tre confezioni di prosciutto cotto scelto. Saranno brioche salate. Che faranno la fine delle brioche salate. Poi, a proposito di brioche salate, due confezioni di pasta brisée. Poi, bastoncini cotonati che erano finiti. clementine. Vitamina C, fa sempre bene. Banane. Le banane non fanno bene, fanno male. Fette di scottate dorate, da 450 grammi. E anche quelle brio, no. No. Pancetta dolce, a cubetti. Poi, una, due, tre confezioni di elenthaler, per non farci mancare niente. Sempre per le brioche salate. Sempre per le brioche salate, ovvio. No, quelli no. Pomodoro. Quelli sono in pedi insalata. Pomodoro oblungo. Facendo una battuta, ma io mi sto zitta. Poi, pezze biscottate con farina integrale. Io so che c'erano. Ah, ma che stai, se te lo posso? Poi, un'altra confezione di pancetta dolce. Quella fumicata è per... Che si chiama la pasta... Prendete la vodka? No, ah, quella è dolce perché prendete la vodka. Ok. Poi... La carbonara. Ok. Wustel con formaggio. Wustel... Quelli mi hanno detto che fanno bene. Senza glutine, senza polifosfati aggiunti. E senza carne. Nel Wustel non c'è carne. Poi... Cetrioli. Faccio la guardia, purtroppo, i cetrioli. Tre confezioni di mozzarella per fare la caprese. Giusto? Corretto. Bene. Poi, un'altra confezione di Wustel formaggio. Eh, quelli sono un vizio. Ah, già. Camorza fumicata. Nei panini, signori, nei panini. E maionese? No, fa male. Ah, ovvio. Poi... Cappelletti con procetto di parma D.O.P. Mi stavano guardando. Ma dicevano, Ale, mangiami, comprami cosa buono. Poi... Poi... Patate. Patate, che erano finite. Poi, nel congelatore, che adesso di Dio puoi, un attimo, anzi, seda, nel congelatore c'è, là, il gelato al gusto stracciatevo, eh? Per quando si guarda un film. E gli spinaci. Ok, qua chiudiamo, qua chiudiamo. E niente, questo era tutto il video svuota spesa ins, con il sottofondo del mio dolce cuoricino, l'amore mio bello paciocchino. Ho fatto pure rimino, che brava. Niente, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. E ricordate, signore, non mandate i mariti a fare la spesa, i risultati sono tragici. Finché non ci spolli... Se il video vi è piaciuto, spolliciate, se vi va, iscrivetevi al canale. E se volete un altro video, con il sottofondo, la voce del mio compagno, scrivete un commentino o spolliciate. Ciao! Ciao! Ciao!